e prevede l'adesione della partecipazione italiana all'IFIM con un contributo globale di 150 milioni di euro da erogare con versamenti annuali fino al 2030. Il decreto legge inoltre autorizza il versamento aggiuntivo per l'anno 2020 di 5 milioni di euro per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness, SEPI, partnership tra pubblico privato e organizzazioni filantropiche della società civile per lo sviluppo di vaccini e l'equo accesso ai vaccini stessi in caso di pandemia. Il 4 giugno il Presidente del Consiglio Conte è intervenuto alla sessione conclusiva dei lavori della Global Vaccine Summit, la conferenza sul rifinanziamento dell'alleanza, nel corso della quale ha annunciato che l'Italia si impegna per un ulteriore contributo diretto di 120 milioni di euro per i prossimi 5 anni, con un aumento del 20%. Come dichiarato dalla Vice Ministra del Re, si tratta di un'iniziativa che conferma l'impegno dell'Italia nell'ambito dell'alleanza alla luce dell'emergenza sanitaria Covid, con l'obiettivo di assicurare un accesso universale ed equo ai vaccini per tutti e non lasciare indietro nessuno. Peraltro, occorre segnalare che il rinnovato impegno italiano si inserisce in un più ampio sforzo dell'Unione Europea, sancito dalla decisione della Commissione Europea, in occasione della citata conferenza sul rifinanziamento, di stanziare 300 milioni di euro a favore di Gavi per il periodo 21-25. Tale contributo consentirà di vaccinare 300 milioni di bambini nel mondo e finanzierà la creazione di scorte di vaccini contro la diffusione di malattie infettive. Ci ho detto, darei la parola al dottor Berkley perché svolga il suo intervento. Grazie mille. Penso di tenere la parola per una quindicina di minuti per poi rispondere chiaramente alle vostre domande. La prima cosa che vorrei fare è ringraziare l'Italia per il sostenuto e continuo sostegno a Gavi e per avermi invitato qui a presentare. Gavi, è chiaro che mi piacerebbe essere con voi lì fisicamente, ma purtroppo le circostanze mi costringono a rimanere a casa ancora in quarantena. Il sostegno che l'Italia ha fornito e che è stato da lei descritto, signora Presidente, e il ruolo di leadership a livello globale ha fatto la differenza perché è appunto da catalizzatore sul finanziamento e sull'impegno per milioni di dollari. tutti i paesi in via di sviluppo in Africa e nell'America Latina, circa 33 con l'eccezione del Salvador e del Guatemala, sono sostenuti da Gavi. Vorrei parlare dei meccanismi finanziari innovativi che sono stati creati anche grazie al ruolo di leadership dell'Italia. Se pensiamo all'acceleratore, all'Advanced Market Commitment che consentirà la ricerca per il vaccino contro il Covid, mi vorrei congratulare con l'Italia che deterrà nel 2021 la presidenza del G20. in quel momento avremo l'introduzione del primo vaccino. Il mondo sarà unito ancora di più e questo sarà importante. Quello che auspichiamo di realizzare nel prossimo periodo che ci attende con il contributo dell'Italia, come avete descritto, e anche della comunità dell'Unione Europea e di molti altri donatori europei. Finora abbiamo vaccinato 760 milioni di bambini, abbiamo prevenuto 31 milioni di decessi e abbiamo lanciato quasi 500 nuovi vaccini e questa esperienza sarà fondamentale quando parleremo anche dell'esperienza relativa al Covid. Grazie al Gavi, il 90% dei bambini al mondo ha accesso ad almeno una dose di vaccino di base e questo è un fattore importante. Si tratta di distribuire della forma più distribuita, più ampiamente distribuita, di assistenza sanitaria al mondo. Nel nostro prossimo periodo vogliamo puntare a raggiungere quell'ultimo 10% rimanente di bambini da vaccinare. E questo è un nostro auspicio. Gavi ha un modello molto interessante che ci consente di accedere ai paesi a basso reddito che quindi pagano molto meno rispetto a quelli che via via, essendo più ricchi, pagano molto di più. Finora ci sono nuovi 15 paesi che sono saliti e sono entrati nel nostro gruppo. Quindi vogliamo raggiungere con una fase di accelerazione altrui 300 milioni di bambini salvando altri milioni di vite con un vantaggio economico di milioni di dollari. Speriamo di poter somministrare 3,1 milioni di dosi di vaccino ai 55 paesi più poveri al mondo autorizzati ad essere sostenuti da Gavi. Abbiamo una riserva di vaccini per la meningite, la febbre gialla, la colera, l'ebola. Questo è un fattore fondamentale per tutti i paesi del mondo. Se c'è un'epidemia in un paese povero forniamo vaccini e dei fondi operativi. I paesi più benestanti ricevono immediatamente anch'essi i vaccini necessari. Adesso siamo protetti da circa 18 malattie e questo è il pacchetto di vaccinazioni per i paesi in via di sviluppo più ampio nella storia. Come ho detto, questo concetto di dose zero è fondamentale. I bambini che non abbiano ancora ricevuto neanche una dose di vaccino di base non possono subire alcun intervento. Quindi due terzi delle famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà si trovano all'interno di baraccopoli urbane o in situazioni di rifugiati. E quindi la nostra sfida è quella di realizzare sistemi a livello subnazionale per poter arrivare a quei cittadini, lavorare insieme ai paesi per individuare le categorie più a rischio. E questo sarà fondamentale per il prossimo periodo. Un punto importante è che spesso il genere rappresenta un ostacolo e impedisce il raggiungimento dei gruppi vulnerabili. E quindi abbiamo integrato nella nostra attività anche il lavoro di genere. Per quanto riguarda l'epidemia del Covid, non occorre che io spieghi all'Italia l'importanza di affrontare in modo corretto questa epidemia che da voi è stata molto forte. Si è fatto uso della scienza per cercare di controllare l'epidemia. Il distanziamento sociale è un fattore fondamentale. Io sono a casa e non ho bisogno di indossare la mascherina, ma mi fa piacere vedere che voi adottate le misure necessarie. È importante creare nuove forme di diagnosi, nuove forme di cura per andare avanti. Gavi ha svolto un ruolo diversificato molto importante anche contro il Covid. Per prima cosa abbiamo cercato di garantire l'accesso dei paesi a una vaccinazione continuativa. Uno studio condotto dalla Scuola di Igiene di Londra sulle malattie tropicali dice che non bisogna interrompere le vaccinazioni per trattare il Covid. E' chiaro che continuare a vaccinare consente, quindi secondo la routine già in piedi, consente di salvare tra le 100 e le 140 mila vite nel caso di attacchi da malattie prevenibili. Non siamo ancora riusciti a conseguire un successo pieno. Durante una crisi come questa è difficile controllare i bambini, ma sappiamo che grazie all'aiuto degli operatori sanitari c'è stato un calo dei contagi. Il secondo obiettivo è partecipare attivamente in maniera flessibile con i sistemi sanitari. Adottiamo dei sistemi anche di finanziamento particolari, per cui siamo in grado di ristanziare i nostri fondi con il 10% del nostro sostegno per garantire dispositivi di protezione, ventilatori, respiratori, eccetera. E noi siamo in grado di intervenire per aiutare i paesi che hanno necessità. Il terzo obiettivo è quello di preparare i paesi a continuare la quarantena, a organizzare la quarantena favorendo le campagne di vaccinazione. Nell'Africa occidentale, dopo l'epidemia di Ebola, noi siamo subentrati per aiutare la ricostruzione dei sistemi sanitari insieme ad altri partner per lo sviluppo. Un fattore estremamente importante è che noi siamo attivi per cercare di garantire un accesso equo ai vaccini per il Covid quando saranno sviluppati. Lavoriamo anche con i paesi a basso e medio reddito per garantire il loro finanziamento e per garantire che abbiano la capacità di somministrare i vaccini necessari, che saranno fondamentali. E dobbiamo garantire anche che le varie filiere, le infrastrutture, siano in grado di affrontare situazioni di epidemia. Per quanto riguarda le iniziative relative ai vaccini del Covid, alla fine di aprile, l'OMS, insieme al presidente von der Leyen dell'Unione Europea, ha ospitato il lancio dell'acceleratore ACT, l'accesso agli strumenti di accelerazione del Covid-19. L'obiettivo è quello di concentrarsi sulla diagnosi, sulle cure e sui vaccini. Oggi però non mi soffermerò su diagnosi e cure, ma parlerò dei vaccini. Durante il G20, guidato dall'Arabia Saudita, insieme alla CEPI e ai leader citati, abbiamo condotto il lavoro sullo sviluppo del vaccino insieme all'OMS. Al vertice globale sui vaccini, citato dalla Presidente, abbiamo lanciato un nuovo meccanismo finanziario chiamato Covid-19 Vaccine Global Access Facility, o COVAX, uno strumento finanziario chiamato COVAX, il cui obiettivo è quello di creare un lavoro che consenta l'acquisizione dei vaccini da parte dei paesi di tutto il mondo, sia quelli a medio reddito e alto reddito, sia quelli a basso reddito. Perché è importante questo? Oggi non sappiamo proprio se qualcuno dei vaccini in preparazione sarà in grado di funzionare. Creando un fondo di ampie dimensioni, saremo in grado di lavorare con tutti i produttori per realizzare, grazie al meccanismo finanziario, varie forme di vaccino. Al momento sono in fase di sviluppo nove vaccini finanziati dal nostro fondo. Siamo in fase di dialogo però con altri produttori del mondo. Quindi se ci sarà la possibilità che almeno un vaccino sia funzionante ed efficace, allora anche se si procederà con la fase di test e aumenteremo la possibilità che altri paesi possano accedere in futuro al vaccino. E' chiaro che appena sapremo se un vaccino che viene prodotto è anche efficace, allora aumenteremo e potenzieremo la sua distribuzione. Il terzo elemento è garantire anche un accesso equo. Adesso c'è una sorta di nazionalismo per i vaccini. Alcuni paesi vogliono comprarne uno o due, magari non funzionano. E poi però ci si chiude e allora non si garantisce la disponibilità di un vaccino ad altri paesi del mondo, anche in quei paesi dove le epidemie sono in rapida diffusione. Nell'ambito di questo meccanismo abbiamo lanciato il Advanced Market Commitment. Nell'ambito del quale l'Italia ha avuto un ruolo leader. L'Italia ha avuto un ruolo fondamentale nel vaccino contro la polmonite. Con quel vaccino abbiamo vaccinato 225 milioni di bambini, prevenendo 700 mila decessi e adesso è disponibile in 16 paesi. Abbiamo quindi a disposizione uno strumento molto potente. L'obiettivo è consentire l'accesso ai vaccini da parte dei paesi a medio e basso reddito. Il ruolo dell'Italia è stato quello di favorire anche il rifinanziamento dell'utilizzo, che prevede il riutilizzo anche di altri tipi di vaccini come quello del pneumococco. Adesso, se scopriremo che uno dei vaccini allo studio funzionerà, saremo in grado di facilitare la produzione di 300 milioni di dosi. Grazie al fondo, saremo in grado di fornire una vaccinazione su ampia scala. Noi stiamo lavorando a stretto contatto con CEPI e sarò lieto di rispondere a eventuali domande che riguardino CEPI o la nostra alleanza Gavi. Gavi è un'istituzione fondamentale anche per il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Non riusciremo a raggiungere alcuni degli obiettivi entro il 2030, ma l'obiettivo a cui puntiamo è quello di raggiungere tutti con le vaccinazioni. Abbiamo parlato del 90% dei bambini già raggiunti. Dovremmo farlo anche con il Covid. Questo è un obiettivo fondamentale. Rappresenta la base della piramide dell'assistenza sanitaria. Lavoriamo anche per raggiungere altri 11 dei 14 degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Quindi operiamo in termini di assistenza sanitaria, ma anche con l'obiettivo di eradicare la povertà, per sostenere e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Questa voleva essere una breve introduzione su quel che facciamo. Mi sono concentrato soprattutto sul Covid-19, che rappresenta per voi un argomento di grande interesse, ma GAVI in quanto istituzione punta primariamente a garantire una fornitura continuativa delle vaccinazioni per evitare che le patologie possano avere un impatto negativo sulle singole popolazioni e sul resto del mondo. L'Italia conosce bene la fragilità e il pericolo legato alla circolazione delle persone ed è importante operare a livello globale per controllare la circolazione nel modo migliore possibile e sarò lieto di fornire ulteriori chiarimenti. Grazie. Per i colleghi che vogliono intervenire, ho una persona già iscritta, invito a venire al podio il collega Comincini della Lega. Non so se ci sono altri... Prego. Buongiorno. Ringrazio il dottor Berkeley per questa audizione molto importante e interessante, soprattutto di attualità, di situazione che stiamo affrontando. Volevo andare subito al dunque, chiedendo in merito alla questione dei vaccini, che loro giustamente come GAVI affrontano e si impegnano nel garantire appunto la diffusione e diciamo anche la scoperta dei nuovi vaccini che possano risolvere definitivamente o in maniera comunque importante il contrasto a certe malattie. volevo chiedere come è il secondo voi però il rapporto con l'aspetto delle diciamo difese immunitarie e quindi anche dell'alimentazione, perché il virus, in particolar modo il Covid, è evidente che c'è un dibattito in questo momento da come si è partito, se da un laboratorio sfuggito di mano o da animali appunto in Cina e c'è una questione legata anche all'alimentazione, che vuol dire difese immunitarie, perché comunque sappiamo che in certi paesi la denutrizione per esempio è un gravissimo problema e dall'altra parte appunto però può essere anche un problema che porta poi alla diffusione di virus, di malattie e quant'altro. Quindi se da una parte occorrono i vaccini, dall'altra occorre anche una certa alimentazione e certe difese immunitarie, quindi capire il vostro intervento da questo punto di vista come avviene, come viene valutato questo aspetto. Poi nelle premesse giustamente si è detto che tra i vostri finanziatori principali c'è il signor Bill Gates. Ecco, vorrei capire interessante la questione che era emersa fin dall'inizio dell'emergenza che già dal 2015 il dottor Gates aveva previsto che sarebbe arrivata una pandemia che avrebbe causato migliaia e migliaia di morti. Ecco, vorrei capire da questo punto di vista com'è l'aspetto economico perché sappiamo come dietro poi l'aspetto delle medicine e dei vaccini in particolar modo ci siano anche interessi importanti economici e come si evitano eventuali conflitti di interesse da questo punto di vista. Infine un'altra domanda sulla questione del tracciamento sappiamo che anche questo è uno strumento importante legato in parte anche al discorso comunque vaccini quanto è importante anche questo strumento legato comunque ai vaccini quindi utilizzare la tecnologia per il tracciamento come viene utilizzato in maniera molto importante in Cina appunto e poi adesso si è iniziato in qualche modo anche in Italia capire anche questo se si ritiene uno strumento importante legato comunque poi a quello che fate voi. Infine, ultima cosa, una questione morale legata ai vaccini c'è un dibattito e ci sono delle associazioni che hanno sollevato delle questioni in merito riguardo a quello che è contenuto all'interno di certi vaccini vorrei sapere da questo punto di vista se ci sono, sapete dare delle garanzie riguardo a questa problematica del materiale contenuto nei vaccini. Sì, grazie Presidente, ringrazio anch'io il Dottor Berkley per la sua audizione oggi qua mi associo alle domande che ha fatto poc'anzi il collega Comencini anche io le tre domande riguardo la prima riguardo alla sua affermazione che chiede che ci sia una copertura vaccinale sia per i paesi ricchi che per i paesi poveri ecco, mi chiedo in prima istanza come è possibile raggiungere nella parte ovviamente dei paesi poveri le zone più remote che hanno già difficoltà a avere comunque prevedere presidi sanitari ad avere difficoltà magari nella questione più semplice di dare energia elettrica per l'appunto per contenere la qualità dei vaccini e altre difficoltà al riguardo faccio un esempio molto banale che ho personalmente vissuto che era per l'appunto in Etiopia dove le zone più rurali hanno proprio difficoltà non solo ad avere presidi sanitari e quindi anche soltanto la diffusione semplice di medicinali ma ovviamente quando si parlava di vaccini quindi la necessità di avere anche magari dei frigoriferi eccetera così questo risultava quasi impossibile quindi come si arriva a raggiungere le zone più remote? La seconda domanda riguarda anche qui il suo intervento dottor Berkley riguardo all'acquisto di 300 milioni di dosi e anche lì mi chiedo se è solo la vaccinazione che è la soluzione principale per affrontare il covid o se non vi è anche una rilevanza per trovare le cure necessarie affinché si possa debellare il covid in questione. E ultima domanda e lì mi rivolgo alla grande discussione che è comunque in atto sulla questione sanità pubblica, sanità privata. Conosciamo bene che vi è ovviamente una interconnessione tra Gavi, tra OMS parliamo nell'OMS di un 87% nel 2017 di fondi privati quindi c'era anche lì la Bill e Melinda Gates Foundation che poi ha un coinvolgimento di tanti global public and private partnerships e qui c'è anche Gavi. Gavi ovviamente contiene una partecipazione di governi ma contiene una partecipazione anche di case farmaceutiche, di organizzazioni filantropiche, di enti sovranazionali come anche l'OMS e quindi io mi chiedo lì proprio dove ci possa essere una garanzia di seguire ovviamente gli interessi anche della sanità pubblica dove per l'appunto è chiaro che quando ci sono comunque iniziative dell'OMS possono anche non sempre coincidere con il bene pubblico. Lo dico perché mi voglio riferire a due dichiarazioni. La prima fu della direttrice generale dell'OMS Margaret Chan nel 2014 quando a New York Times disse il mio budget è altamente vincolato da ciò che io chiamo gli interessi dei donatori e anche Bill Gates stesso disse alla CNBC nel 2019 che incrementare l'accesso ai vaccini ha prodotto un ritorno economico di oltre 20 ad 1 quindi se facessimo un calcolo molto banale non sono brave matematiche ma se ci fosse un investimento di 5 milioni in 20 anni sarebbe comunque ad avere un ritorno economico di oltre 100 miliardi scusi 10 miliardi in 20 anni ritorno economico sarebbe di oltre 100 miliardi quindi proprio per questa questione è per me molto importante capire come si riesce a garantire ad ogni modo un ritorno sulla sanità pubblica su quali ovviamente i nostri governi sono legati grazie grazie mille ho io anche una domanda che riguarda più una questione di carattere geopolitico diciamo di ehm geopolitica dei vaccini eh il nostro paese l'Italia si è schierata ehm da subito proponendo eh un'iniziativa internazionale eh per una alleanza globale per la ricerca del vaccino sul covid altri paesi invece hanno fatto delle scelte di politica farmaceutica diverse eh con addirittura del presidente Trump che sta mh incoraggiando una competizione per creare un vaccino americano sostanzialmente ehm chiederei a Seth Berkley una sua valutazione su l'efficacia degli sforzi globali per arrivare alla ricerca del vaccino cioè ehm è vero che mettendoci insieme arriveremo prima al vaccino e arriveremo prima alla copertura vaccinale o forse invece è meglio eh che ciascun paese faccia da solo o che facciano da soli i paesi eh like minded questa domanda ovviamente tiene conto del fatto che per contrastare una pandemia ci vuole un vaccino che sia globale però la la mia domanda si eh è relativa in particolare al tema dello sviluppo del vaccino cioè cooperandoci si arriva prima e e e più in fretta oppure eh oppure no oppure è meglio avere una competizione tra paesi e darei la parola per rispondere a questo primo giro di domande grazie mille per le vostre domande parto dall'inizio c'è uno stretto legame tra l'alimentazione e le malattie infettive se qualcuno è davvero sottonutrito denutrito non dispone di un sistema immunitario forte e quindi è esposto ad un aumentato rischio di contrarre una malattia infettiva ma d'altra parte se c'è qualcuno in salute che però contrae una malattia infettiva è chiaro che perderà vigore anche il suo stato nutrizionale e quindi diventerà una persona denutrita sappiamo che questo virus è arrivato da un animale è stato trasmesso all'essere umano e il primo evento di trasmissione per quel che sappiamo potrebbe essersi verificato in Cina ma quel che sappiamo è che poi da lì si è spostato verso 180 paesi nel giro di tre mesi non c'è stato in quella circostanza alcun legame con uno stato di malnutrizione il tasso di infezione di contagio oggi è più alto nei paesi ad alto reddito dove c'è una migliore condizione alimentare un migliore stato di nutrizione quindi non rappresenta un fattore in questo caso la nutrizione per quanto riguarda la domanda sulla Gates Foundation Bill Gates è famoso per il suo TED Talk la sua partecipazione al TED Talk nel 2015 all'epoca parlò dell'inevitabilità di una pandemia io stesso ho partecipato a TED Talk parlando di come affrontare una pandemia di come anticipare una pandemia creando subito dei vaccini per essere pronti a rispondere e poi CEPI è un'istituzione creata proprio per anticipare la lotta a una pandemia prima del covid erano già pronti a lavorare su altre malattie infettive penso al MERS un altro tipo di coronavirus poi dal MERS si sono spostati allo studio del covid perché dispongono già delle strutture necessarie per quanto riguarda la tracciabilità il tracciamento noi vorremmo avere un sistema che consenta di tracciare ogni famiglia ogni bambino per cui se c'è un vaccino possono rappresentare dei casi di successo di guarigione ma non c'è questo sistema adesso abbiamo un sistema soprattutto per le persone che sono sfollate si perdono le informazioni e quindi noi stiamo cercando di operare su un sistema di test attraverso degli strumenti digitali che consentano di tracciare i vaccini cerchiamo di responsabilizzare le persone per quanto riguarda il contenuto dei vaccini qualunque vaccino acquistato da Gavi ha due componenti di sicurezza insite in sé qualunque vaccino deve essere stato registrato e autorizzato da un ente normativo severo e rigoroso e richiediamo anche che i vaccini siano stati prequalificati dall'OMS ed è un fattore importante perché molti dei paesi che stanno lavorando ai vaccini non hanno degli enti normativi stringenti e severi e quindi si rivolgono a volte a dei gruppi esterni come il nostro che hanno dei requisiti fondamentali però da rispettare stiamo cercando sicuramente di accelerare molto lo sviluppo dei vaccini ma tutti i soggetti coinvolti in questo processo non vogliono inutili ritardi e occorre però che vengano mantenute tutte le fasi e i requisiti di sicurezza i vaccini sono chiaramente devono essere sottoposti a controlli rigorosi proprio perché vengono utilizzati su ampia scala la domanda su come facciamo a raggiungere le zone remote ha ragione non ci sono sempre i presidi sanitari anche se idealmente li vorremmo sempre e li vorremmo sempre a portata di pochi chilometri da ciascuna famiglia ma il che non è fattibile al momento il lavoro che svolgiamo è quello di aprirci di raggiungere con delle campagne speciali per raggiungere gli abitanti dei villaggi più remoti e cercare di fornire lì i vaccini le vaccinazioni a livello ambulatoriale sono continuate anche all'inizio dell'epidemia covid ma molti dei nostri appuntamenti sono stati cancellati a causa della mancanza di tempo della scarsità di denaro ma questo a volte ha portato ad un calo dell'immunità all'interno di alcuni gruppi di popolazioni per quanto riguarda l'elettricità abbiamo acquistato più di 65.000 apparecchiature che sono molto efficienti dotati di generatori e di accumulatori solari per cercare di fornire i vaccini e tenerli al fresco nei nostri apparecchi anche nelle zone prive di elettricità e questo ci ha consentito di raggiungere quell'obiettivo di dare la dose di base ad almeno il 90% dei bambini del mondo l'Etiopia rappresenta un paese prioritario per Gavi e abbiamo cercato di addestrare gli operatori rurali proprio per garantire la nostra presenza anche lì per quanto riguarda le cure le cure sono fondamentali ma le cure è improbabile che ci siano e che vengano trovate prima dell'arrivo del vaccino è raro che una cura sia efficace al 100% se si evita innanzitutto di ammalarsi allora si può evitare di aver bisogno di cure e soprattutto si evita di infettare gli altri molti ritengono che l'elemento fondamentale sia avere un vaccino di successo ma non lo sappiamo ancora non sappiamo dire se saremo in grado di crearlo ci sono indicazioni positive ma fino a quando non sappiamo che faccia avrà questo vaccino non possiamo parlare né di vaccini né di cure e non possiamo far altro che intervenire in maniera non specifica come stiamo facendo adesso per cercare di proteggere il più possibile le persone Gavi è per lo più finanziato da governi ma lavoriamo anche con società del settore privato e riceviamo anche da fondazioni private i nostri finanziamenti l'interesse di Gavi però è nel settore pubblico noi lavoriamo nei paesi più poveri del mondo e per esempio siamo riusciti a ridurre il prezzo degli 11 vaccini raccomandati dall'OMS da 1300 dollari da 13 siamo riusciti a ridurre di più del 95% il prezzo degli 11 vaccini di base dell'OMS nei paesi a basso e medio reddito lavoriamo col settore pubblico soprattutto per rendere accessibile ai paesi più poveri il lavoro svolto dal settore privato e per garantire che ci sia una ricaduta positiva anche sulla salute pubblica per quanto riguarda il ritorno sugli investimenti il ritorno per quanto riguarda i vaccini è ben più alto di quello che avete detto per ogni dollaro che si investe si ha un ricavo del 54% rispetto al proprio investimento basandosi sugli effetti complessivi sullo stato di salute in termini di tenuta dei posti di lavoro continuazione della scuola per i bambini la Presidente mi ha rivolto una domanda molto complessa sul piano geopolitico se si guarda da una prospettiva di efficienza sicuramente il modo più efficace per lavorare è cercare di avere il mondo della scienza compattamente unito nel lavorare oggi abbiamo più di 200 vaccini su cui si sta lavorando in fase pre-test clinici se c'è un occorre però che ci sia una normativa e una normazione per garantire che le migliori tecnologie vengano utilizzate ovunque non in un singolo paese gli Stati Uniti sono un paese molto potente con un'ottima base di scienziati potrebbero sviluppare loro il vaccino ma forse no pensiamo all'ebola c'è stato un vaccino che è stato sviluppato molti altri paesi hanno fatto una corsa al vaccino il migliore tra i vaccini è stato elaborato in Canada in un laboratorio pubblico di ricerca poi è passato per gli Stati Uniti ed è finito in Germania in fase produttiva quindi c'è stato uno sforzo globale non ci si può chiudere non si può dire lavoreremo solo con gli scienziati statunitensi o con quelli italiani non c'è un grado di efficienza totale su tutti i campi si può avere successo ma forse si può non avere potrebbe accadere di non essere in grado di sviluppare il vaccino quindi il modo più efficace di lavorare è farlo insieme un'altra sfida molto importante riguarda i parlamenti se ogni paese dice il nostro obiettivo è quello di vaccinare tutti i cittadini del nostro paese vogliamo comprare tutti i vaccini per farlo subito rapidamente esauriremo tutta la capacità del mondo in pochi paesi quindi il resto del mondo finirebbe per non avere accesso ai vaccini e l'epidemia continuerebbe a diffondersi in modo molto grave raggiungendo molti altri posti e questo non va bene neanche per i paesi che dispongono del vaccino perché se c'è un ampio un ampio bacino residuo di vaccino di virus il virus ritornerebbe a colpire gli umani e quindi il modo migliore di procedere è vaccinare una piccola parte della popolazione in ogni paese partiamo dagli operatori sanitari partiamo dalle categorie a rischio e poi quando abbiamo distribuito un'ampia e sufficiente quantità di vaccini possiamo procedere con tutti gli altri ecco perché promuoviamo un approccio che guarda a tutto il mondo e non solo alle singole nazioni l'ultima cosa che voglio dire se le singole nazioni iniziano iniziano a fare affari con singole società non necessariamente per acquistare il prodotto migliore allora alla fine ci saranno limiti alle forniture non ci saranno più prodotti chimici necessari per realizzare i vaccini e magari il migliore vaccino non avrà le forniture necessarie per poter andare avanti nel suo sviluppo mentre perché magari un vaccino non di successo non efficace avrà esaurito tutte le risorse chimiche disponibili allora bisogna coltivare il lavoro di ricerca sui vaccini probabilmente più di successo avremo bisogno per esempio potremmo avere bisogno di uno specifico vaccino per gli anziani un altro più efficace per le zone più isolate le zone rurali dell'Etiopia faccio per dire o un altro che sia concepito per essere utilizzato in una zona come quella di Milano dove ci sono ottime infrastrutture buoni frigoriferi eccetera quindi bisogna vedere tutto in prospettiva ed è quello che facciamo noi grazie grazie mille ringrazio per questa audizione così completa che ci dà sicuramente degli spunti per procedere con le varie iniziative di commissione italiane a sostegno di un impegno globale per i vaccini e in particolare per il vaccino contro il covid ringrazio molto ah no c'è scusate pensavo fosse finito c'è il collega Formentini che vuole intervenire prego sempre della Lega la domanda che volevo porre è relativa al giudizio che voi date sul ruolo nella gestione della crisi dell'organizzazione mondiale della sanità ho visto recentemente un appello qualche giorno fa al presidente Trump da parte di Bill Gates chiedendo appunto a Trump dicendo che vorrebbe adoperarsi perché il presidente Trump recedesse dalla propria decisione di abbandonare l'organizzazione mondiale della sanità ecco dal vostro punto di vista qual è la strada migliore ritenete che la risposta dell'OMS a questa crisi globale sia stata efficiente efficace grazie prego dottor Berkeley vado con la risposta grazie per questa domanda innanzitutto è molto difficile nel pieno di un'epidemia fare tutte le cose giuste la Cina ha rilasciato tutte le informazioni nel momento giusto abbiamo saputo tutto con tutte le consulenze le raccomandazioni sono state puntuali chiaramente dobbiamo rispondere no ma se guardiamo alla risposta di tutti i paesi ci sono stati momenti in cui non c'erano le migliori informazioni disponibili e dovevamo un po' alcuni paesi hanno dovuto adattarsi indovinare come procedere e sicuramente è accaduto negli Stati Uniti dove hanno circolato tante informazioni sbagliate ci sono state informazioni non corrette che sono state divulgate il dibattito generale quindi è che qualcuno avrebbe dovuto osservare l'OMS per capire se si era comportata bene ma il punto che vorrei sottolineare non si fa questo nel bel mezzo di un'epidemia se c'è se c'è il crollo di un palazzo e si giudica l'efficacia o meno del lavoro dei pompieri non si opera nel modo corretto bisogna affrontare operare con i soccorsi e poi avviare un'inchiesta quindi probabilmente sono tanti i paesi che si affidano all'OMS e forse interrompere il finanziamento all'OMS nel bel mezzo di un'epidemia non è stata una decisione saggia quando c'è stata una seconda epidemia di ebola per esempio non abbiamo potuto evitare il coinvolgimento dell'OMS siamo stati noi a fornire i vaccini ma ci siamo basati sull'attività di consulenza e di assistenza fornita e di vigilanza fornita dall'OMS c'è una rete che ci aiuta per esempio all'interno dell'OMS a capire quanti saranno i vaccini per influenza che saranno necessari il prossimo anno c'è la fase di prequalificazione rilasciata dall'OMS noi dobbiamo cercare di concentrarci sul miglioramento del nostro lavoro per cercare di affrontare al meglio le epidemie i parlamentari devono pensare a questo è certo da un punto di vista evolutivo che ci saranno nuove epidemie avremmo probabilmente ci saranno nuove epidemie di coronavirus o forse nuove epidemie per che saranno legate all'aumento della desertificazione alla densità delle baraccopoli o al fatto che vengono abbattute le foreste quel che è necessario è un sistema globale che lavori nel miglior modo possibile e dobbiamo chiederci tutti come fare meglio nel futuro ma in una fase di emergenza dobbiamo continuare a concentrarci sull'ottenimento dei risultati migliori e questo deve farlo chi ha un ruolo fondamentale come l'OMS grazie non so se ci sono altri colleghi o se data l'imminente inizio dell'aula chiudiamo qui ringrazio molto dottor Berkeley anche per la disponibilità a essere estremamente flessibile con la sua agenda che è un'agenda estremamente complicata rispetto alle nostre esigenze di aula che sono cambiate più volte in questi giorni quindi ringrazio anche per questo tipo di disponibilità e dichiaro conclusa l'audizione grazie a tutti Grazie a tutti.